Buongiorno cari amici dell'immobiliare.com, questo breve video per invitarvi all'evento formativo e non solo che faremo a maggio. Sarà anche un'occasione per stare insieme, proprio per condividere idee ed esperienze, insomma proprio per crescere insieme che è il titolo del workshop. Un incontro speciale, una giornata dedicata ad ognuno di voi per fare di ogni nostra agenzia un'agenzia di successo. Un percorso, come nel mio stile, molto pratico e concreto per valorizzare il singolo attraverso la forza del gruppo. Tratteremo temi molto importanti, come unire l'autonomia del professionista con la forza del gruppo e il valore del brand, come fare della nostra agenzia un team di persone unite e iperproduttive, trasformando l'io in noi. Ma soprattutto ci occuperemo della nostra crescita personale per fare risplendere il talento di cui ognuno di noi è portatore sano. Vi aspetto, ci vediamo a Rimini!